Anche di tutte le indicazioni, teniamo conto che oggi era una giornata tremenda, difficile. Cosa ti piacerebbe fare adesso, visto che sei venuto dall'ambiente amatoriale e adesso stai iniziando a vincere bene? Continuare a vincere bene con il Team X Bionic, grazie a Luigi Isola, Federico Incardoni, i miei compagni di squadra, il direttore sportivo. Ma ho iniziato come amatore e finirò come amatore. È una passione una bicicletta, non sarà mai nulla di più nella mia vita. Bene, complimenti per questa passione che viene fatta al meglio per Giuseppe Mazzocchi Sorrenti, che vi vedremo la premiazione alle due e un quarto. Vi lasciamo rilassare un po'. I complimenti che vanno ovviamente anche ad Alessandro Pertuola, secondo, ed è stato un grande rivale Alessandro Pertuola, perché è stato lì proprio astuzzicato praticamente nel finale Sorrenti Mazzocchi. E poi terzo, come sempre, è un bravissimo e generosissimo Alfonso Falsarano.